ogni giorno l'oroscopo e l'almanacco del giorno ciao da mauro 24 maggio un po di leggerezza e andiamo avanti santa amalia compleanni di oggi abbiamo la subretta natali caldonazzo nata il 24 maggio nel 1969 un ex calciatore francese temperamento da eroe qualcuno lo definisce così eric cantona è nato oggi nel 1966 eduardo de filippo ha firmato questa frase prima dell'oroscopo essere superstiziosi ed ignoranti ma non esserlo porta male ariete il grosso potenziale di energie vi permette di darvi da fare senza riserve occasioni di svago e di utili scambi le relazioni sociali si intensificano e movimentano la vostra giornata rompete il ghiaccio con un parente dialogo scintillante con chi amate toro cresce l'entusiasmo nonostante qualche sosta obbligata che vi porta a razionalizzare per scegliere le migliori strategie programmate qualche spesa in più per il vostro personale piacere sintonia con chi amate gemelli aumenta il bisogno di appagare interessi nuovi che stimolino la vostra energia creatrice qualche segno di discontinuità nella resa intellettuale approfittate del tempo libero per ricaricarvi amici pronti ad aiutarvi se ce ne sarà bisogno cancro la capacità di introspezione vi porta a modificare vecchi atteggiamenti qualche imprudenza potreste commetterla in amore cautelatevi nel lavoro mantenete le distanze da chi non vi interessa ma non chiudetevi completamente leone giornata propizia per poter raccogliere successi in società entusiasmo per un progetto tocca a voi mettere a punto le strategie perché qualcuno conta proprio su questo in campo lavorativo rimettete in discussione ciò che date per scontato il cambiamento vi gioverà molto vergine desiderio di tagliare i ponti nel lavoro prendete precauzioni e non lasciatevi consigliare dalla fretta accettate questa sera un invito che vi chiarirà le idee qualche nube in amore ma scegliete la via del cuore sarete felici bilancia buone prospettive nel campo delle relazioni sociali assecondate le molte sollecitazioni che vi incoraggiano ad aprirvi qualche segno di aggressività in famiglia c'è un progetto da vagliare attentamente prima di prendere decisioni impegnative scorpione siete decisi a cambiare rotta e a neutralizzare gli elementi frenanti non cercate pretesti e provate a rischiare il lavoro necessita di programmazioni a lunga scadenza organizzate il vostro tempo per non disperdere energie sagittario buon avvio di una collaborazione che promette soddisfazioni morali e materiali non lasciate sospesi con chi amate meglio chiarire un equivoco prima che la buona armonia si incrini evitate i disordini alimentari avete bisogno di essere in forma per rendere al massimo capricorno le apparenze possono ingannare nel lavoro il successo arriva se saprete basarvi sui fatti e non sulle parole nei rapporti comunicativi sarete in sintonia con i vostri interlocutori aiutate un vostro parente che si trova in momentanea difficoltà acquario apritevi ai nuovi interessi camminando su sentieri mai esplorati prima si intensificano i rapporti sociali che appagano il vostro bisogno di conferme e gratificazioni richiedetevi su un conoscente merita di certo la vostra simpatia pesci dinamismo e veloce recupero di energie sarete oggi vivaci e assai imprevedibili prudenza nel lavoro semaforo rosso per chi manca di lealtà in amore tenete a freno l'impulsività se volete evitare di commettere errori di valutazione grazie a tutti